è la finale mamma mia la finale la finale della KF3 in lotta per il titolo perché il campionato è ancora aperto è apertissimo il campionato davanti c'è fuoco c'è fuoco e ha un bel vantaggio e gli manca un solo punto per vincere il campionato quindi per gli altri è difficilissimo voglio vedere gli altri sono sì in realtà è uno solo è Anson Robin Anson che però parte dalla pole mi sembro dalla prima fila lo vediamo qui in inquadrato parte in prima fila al primo posto di fianco a lui c'è Connor Yupe e infatti guardatelo là che Robin parte in effetti mantiene la prima posizione senza troppi problemi alle sue spalle è proprio fuoco giusto? sì 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 Morsikani è lì Morsikaiser no Morsikani Morsikaiser è il soprannome che io gli do prenderò schiaffi anche da lui oltre che dal padre di Giovinazzi quelli sono sicuri una volta presi ho bisogno di un po' di calore in faccia quindi se mi riempie di schiaffi mi fa solo un gran piacere guarda come si copre le spalle mamma mia è fuoco ma nulla da fare si infilano in due o tre che contatto che contatto si è girato dov'è? dov'è? fuoco l'abbiamo perso come una trottola in giro per la pista di Viterbo e qui è successo quello che andava a succedere pare che stia andando al contrario adesso ma non funziona bene sta cosa in ottica campionato guarda che ha perso è fuori è fuori è fuori è sicuro intanto davanti tutto energy perché c'è Robin Hanson e poi Connor Japp ma si può chiamare uno così? vabbè lo dico io che mi chiamo Yannick Sterzel quindi e ciò è tutto a dire però mi chiami Gabriel stai zitto appunto peraltro ti faccio uno che si chiama Ronnie non ne parliamo neanche e poi e poi vabbè ne abbiamo tanti di altri nomi improbabili però non li andiamo a toccare per il momento per il momento però prima o poi li diremo li diremo perché i nomi vanno facili i soprannomi soprattutto Ronnie ne ha uno interessantissimo vogliamo dirlo io lo dico lo sento barriga barriga ciao barriga barriga si è sempre nei nostri cuori barriga barriga che vabbè in portoghese vuol dire pancia potete capire il perché è un ragazzo gonfio è chiarissimo è un ragazzo gonfio è un po' sì però si è messo in riga però è un gonfio brutto è un gonfio brutto però si è messo in riga è vero è vero l'ho visto bello l'ho visto bello mi piace proprio guardarlo mi piace vederlo asciutto secco tonico come sta diventando lui e quindi lo stimiamo davanti tra energy eh sì questa è la categoria energy cioè panigada tutto bene cos'è che si è inventato mic panigada gran patron della energy si vuol fare degli amici chiaramente sicuramente sono quelli alle sue spalle è un terzetto tutto energy dicevamo mamma mia beh lì 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 però è abbastanza un contatto di gara forse vedremo i commissari cosa decideranno magari decidono per qualcosa di importante però comunque la mia no non la posso dire la mia puoi dire puoi dirla dici no no intanto battuta a parte sorpasso sorpasso di su Connor Japp fammi vedere Danny Zolzen dovrebbe essere il 325 è in terza posizione il 309 in seconda ed è Danny Zolzen bravissimo e il primo è Robin Hanson no per l'altro so leggere con gli occhiali sei preparato con gli occhiali so leggere con Ronnie è diverso Ronnie sta lì dieci ore come se stesse guardando l'elenco telefonico ma sai perché lui mi ha detto il segreto io prendo i fogli e lui invece guarda i caschi perché lui ha capito l'intenditore dei caschi però è difficile perché i caschi sono piccoli voi li dividete come i carabinieri ognuno fa lui parla io tu guardi lui parla però dite cose un po' discordanti infatti le nostre telecroniche può essere Alessio Piccini e mi sa di sì cosa ci fa lì fermo Alessio Piccini ma non so probabilmente è lui probabilmente gli piaceva il paesaggio voleva dare un'occhiata si è fermato si è fermato all'autogrill ma perché c'è la rustichella che è buona ah buona sei sicuro che abbia preso la rustichella tra l'altro a quest'ora no non c'è questo langorino qui che prende comunque lo stomaco le caramelle gommose vogliamo non prenderle io adesso vado vado all'autogrill e le compro le compro sei o sette scatole ma scatole proprio quelle di cartone dove dentro ci sono otto dodici pacchi ma dicevamo che è l'energy è la gara della energy mica tanto perché dietro io se non l'ho visto male ho visto due baby race di seguito che dovrebbero essere Silvest e Lorandi ah però anche Lorandi Lorandi a me sta piacendo a parte il fatto che è stato coinvolto in quell'incidente lì con fuoco mi spiace però onestamente non credo che sia colpa di Alessio intanto all'interno di Alessio entra un casco bianco vai a capire chi può essere potrebbe essere perché mi sembrava un Tony Karte potrebbe essere chi lo sa chi lo sa e lo scopriremo ci vorrebbe Lorandi che riconosce i caschi è importante no alla fine no ci verrà più chiaro anche il padre di questo qui col casco bianco vediamo vediamo se lo dice almeno la grafica oppure se riusciamo a intravedere il numero di quel casco bianco sta di fatto sta di fatto comunque che dicevamo prima il contatto tra Alessio Lorandi e Antonio Fuoco beh Lorandi chiaramente ha allargato ha allargato in uscita di curva poteva fare a meno visto che c'era in ballo il pretendente al titolo però però sta di fatto che Fuoco poteva alzare anche lui il piedino io a me interessa però la continuiamo dopo la pubblicità va bene? tagliami così grazie a tutti